Si è svolta l'udienza preliminare del procedimento relativo all'inchiesta alla carica delle 104, raffica di richiesta di costituzione di parte civile, ben nove gli enti che hanno presentato istanza, tra questi la FLCCGL, l'ASPO, il Coda Consa Nazionale e alcune associazioni di volontariato. La Procura della Repubblica di Egrigionetto intanto ha chiesto a rinviare giudizio per 71 dei 101 indagati che avrebbero beneficiato della legge 104 in maniera illecita. Sempre la stessa Procura per 22 ha chiesto l'archiviazione, mentre tre indagati sono nel frattempo deceduti. Questi nomi di coloro per i quali è stato richiesto il giudizio si tratta di Antonio Alaimo, 53 anni, collaboratore scolastico di Favara, Giuseppe Gallo, 61 anni di Naro, medico specialista in pneumologia presso il presidio sanitario di base di Canicattie Naro, Angelo Gallo, 55 anni di Naro, Francesca Giglio, 64 anni di Agrigento, Raimondo Gioia, 36 anni di Agrigento, Antonia Mattina, 57 anni, nata a Favara, presidente a Palermo, Francesco Salemi, 40 anni di Favara, Concetta Giancani, 38 anni di Favara, Antonino Messinese, 38 anni di Favara, Almerinda Petrino, 40 anni nata a Norimberga ma residente a Favara, Giuseppe 40, 55 anni, Calogero Fanara di 42, Maria Russello di 42, tutti di Favara, Alfonso Russo, 65 anni di Aragona, Ivana Sciortino, 36 anni, Stefano Salemi, 37 anni, entrambi di Favara, Germana Panepinto, 41 anni di Cammarata, Carolina Lodato, 67 anni di San Giovanni Gemini, Angelo Greco, 57 anni di Palma di Montechiaro, Francesco Incardona, 60 anni di Campobello di Licata, Giuseppe Aquilino, 54 anni di Palma di Montechiaro, Giuseppe Barragato, 40 anni, Savotore Fiacabrino, 46, Vito Rallo, 47 anni, tutti di Palma di Montechiaro, Daniele Rampello, 47 anni di Raffadali, Antonino Scimè, 46 anni di Agrigento, Gerlando Taibbi, 83 anni di Agrigento, Paolo Santamaria, 63 anni di Aragona, Lorenzo Creco, 60 anni di Agrigento, Patrizia Iba, 36 anni di Raffadali, Roberto Iba, 40 anni di Raffadali, Giuseppe Candioto, 61 anni di Agrigento, Calogera Nicotra, 41 anni, originaria di Favara ma domiciliata a Pugliano Milanese, in provincia di Milano, Francesca Morello Baganella, 42 anni di Favara, Giuseppe Pecoraro, 40 anni, nato a Leverkusen in Germania ma residente a Favara, Carmela Signorino Gelo, 65 anni, Gerlanda Russello, 59 anni, Gaetano Capodici, 66 anni, Angelo Alba, 41 anni, tutti di Favara, Marilla Traversa, 34 anni di Raffadali, Gerlando Di Lucia, 36 anni, nato in Germania ma residente a Raffadali, Antonino Ragusa, 47 anni di Raffadali, Sabotore Attanasio, 58 anni di Agrigento, Giuseppe Porcello, 74 anni di Agrigento, Giuseppe Cuffaro, 33 anni di Raffadali e Leonora Moscato, 78 anni di Raffadali, così come Domenico Giglione di 45 anni. Ed ancora Antonino Cina, 56 anni di Agrigento, Luca Gazziano, 28 anni di Agrigento, Vincenzo Gazziano, 61 anni di Agrigento, Carmelo Curabba, 66 anni di Raffadali, Giuseppe Zambito, 73 anni di Montallegro, Nino Vasarella, 50 anni di Cattoli Caracrea, Gaetana Cacioppo, 60 anni di Agrigento, Antonino Iacono, 70 anni di Raffadali, Giovanni Iacono, 38 anni di Raffadali, Piera Daniela Lo Iacono, 48 anni di Agrigento, Emilio Attanasio, 23 anni di Agrigento, Sabatore Bellomo, 42 anni di Grotte, Giuseppe Milisenda, 61 anni di Raffadali, Rosaria Morello, 78 anni di Naro, Vincenzo Antonio Gallea, 58 anni di Naro, Francesco Infurna, 32 anni nato ad Agrigento, ma residente a Ravenna, Gianfranco Pullara, 71 anni di Agrigento, Alfonso Monachino, 60 anni di Agrigento, Carmelo Cuffaro, 82 anni di Raffadali, Carogelo Stagno, 47 anni di Favara, Antonella Nobile, 31 anni di Agrigento, Dario Bosco, 40 anni, e Giuseppe Chianetta, 56 anni, entrambi di Favara.